Grazie a tutti. Laboratorio dei talenti, oratorio, insomma si è chiamato in tanti modi. Don Bosco lo prende come strumento, non è il primo che lo inizia, ma sicuramente gli dà una forma che nessun altro riesce a dare. E questo oratorio in qualche modo segna il tempo di tanti giovani. Ora, lui adesso non è più giovane, però secondo me lui all'oratorio c'è stato e qualcosa da dirci ce l'ha. Proviamo a vedere. Buonasera. Buonasera. Potrei avere una luce da comico? No. Così è perfetta, grazie. Mi hanno detto che avrò più tempo a disposizione del sindaco e del vescovo. Non c'è più di religione. Però mi hanno chiesto di dire qualche cosa a proposito di un luogo che mi è molto caro e che ha salvato la mia vita, le ha dato un senso e come alla mia l'ha salvata e ha dato un senso a milioni di ragazzi. Sì. Adesso io ragiono un po' con il cuore da nostalgico, mi avvio un po' alla terza età e quindi forse il mio sguardo sarà un po' malinconico perché temo più che temere. Spero che luoghi così continuino ad esistere perché un ragazzo, un giovane senza l'oratorio, credo che ai miei tempi sarebbe stato sicuramente smarrito. Non lo so adesso. Vado a leggere ciò che ricordo dell'oratorio. La prima volta che ho sentito parlare di Don Bosco è stato quando, all'età di sei anni, ho varcato la porta dell'oratorio di Villa Cortese, il paese dove sono nato e cresciuto poco. Fuori dalla porta c'era una scritta in grande, oratorio S. Giovanni Bosco e S. Chiara. Ho pensato che S. Chiara fosse la moglie del signor S. Giovanni Bosco. Anche perché il secondo pensiero che ho fatto è stato questo, ma i coniugi Bosco non potevano mettere una targhetta piccolina sopra il campanello come avevano fatto la mia mamma ed il mio papà fuori dalla nostra casa? C'era proprio bisogno di far sapere a tutto il paese con una scritta alta un metro che quella era la loro casa? E che casa? Avevano davvero tutto. C'era perfino una stanza adibita a bar con il calcio balilla. Il ping pong. Poi se uno gli veniva sete poteva bere una gazzosa o un bicchiere di spuma nera. L'unica cosa che non mi tornava era che te la dovevi pagare la gazzosa. Poco, ma te la dovevi pagare. Ti invitavano a casa loro i coniugi Bosco e poi ti chiedevano i soldi per la bibita. Boh. Forse era per via che c'erano un sacco di bambini come me a visitare quella casa e quindi se il padrone avesse dovuto offrire la gazzosa a tutti i bimbi del paese avrebbe dovuto lavorare 20 ore al giorno. Oltre alla sala del bar c'erano altre innumerevoli sale. Ma la cosa meravigliosa era che nel parco di quella casa c'era anche un campo da calcio in erba da 11 giocatori. L'unico problema è che lì sopra ci giocavamo in 280. Ossia tutti i bambini dai 6 ai 13 anni del paese. Le porte erano fatte con i maglioni o i cappotti ammonticchiati. Quando la sera si andava a casa spesso si ritornava con gli indumenti di un altro. L'arbitro di quelle decine di partite che si svolgevano contemporaneamente sul campo alle ore 17 fischiava la fine delle competizioni e ci trasferiva tutti i 280 nella cappella della casa. Lì abbiamo imparato i dieci comandamenti, i sette vizi capitali, le quattro virtù teologali, tutti tranne Martignoni che faceva confusione tra speranza e temperanza e che invece apparteneva a quelle cardinali. Giusto no? Assieme alla giustizia, alla prudenza e alla fortezza. Per non parlare dei dieci comandamenti che ne sapeva soltanto tre. Allora l'arbitro, che poi era anche il barista e che poi alla fine era anche il prete, Don Giancarlo, si innervosiva e diceva che Martignoni, nonostante fosse un somaro, forse anche lui sarebbe andato in paradiso. Perché in paradiso, diceva Don Giancarlo, non ci vanno solo i santi, ci vanno anche i somari. L'importante è che abbiano il cuore buono. Verso la terza elementare, tutti noi ragazzi del paese abbiamo capito che S. Giovanni Bosco non era il marito di S. Chiara e che quella S messa davanti al nome e cognome dei proprietari dell'oratorio stava per santo. Verso la terza media abbiamo intuito che l'oratorio dove noi ci abbiamo passato l'infanzia non era di proprietà di San Giovanni Bosco e di Santa Chiara, ma era semplicemente dedicato a loro. Tutti lo abbiamo capito tranne Martignoni, che in quanto somaro è quasi sicuro che reincontrerà Don Bosco in paradiso. Quando i bambini andavano all'oratorio, la loro giornata tipo era pressa poco organizzata così. Ore 8 e 20, inizio delle lezioni a scuola. Ore 13 e 20, fine delle lezioni. Ore 13 e 30, tutti i 280 ragazzi di Villa Cortese erano con le gambe sotto il tavolo di una delle nonne, la quale aveva preparato la pasta asciutta al sugo. La pasta al pesto nelle località dell'Alto Milanese negli anni 60 doveva ancora essere inventata. Ore 13 e 50, tutti i bambini avevano già finito di mangiare ed erano davanti alla porta dell'oratorio. Tutti, tranne Gervasoni, che stava facendo il trist di pasta asciutta. Ore 14, Don Giancarlo apriva la porta dell'oratorio. Tutti scemavano dentro urlando a più non posso. Il Don, era abituato, li contava ad uno ad uno ed anche se correvano come guarini e sciacchiri. Non ce n'erano di Juventini nel nostro oratorio. Il Don diceva che andavano tutti all'inferno. Alla fine ne mancavano sempre due. Gervasoni e Martignoni arrivavano verso le 14 e 20. Gervasoni sempre più grasso e Martignoni che ripassava ad alta voce le virtù teologali. Con un calcio nel sedere il Don li spingeva dentro e poi chiudeva la porta con un catenaccio. Tutti i bambini stavano lì dentro al sicuro fino alle ore 18. Nessun pericolo si sarebbe abbattuto su di loro tranne i calci del Don. L'oratorio aveva una squadra di calcio iscritta al torneo di terza categoria. Tutto il paese sognava di vincere il campionato per passare alla categoria superiore. avvenne solo una volta di passare in seconda categoria e tutto il paese si riversò in strada a far festa come quando l'Italia vinse il campionato del mondo. Quella sera il Don tra un brindisi e l'altro dichiarò che si puntava almeno alla serie B. Il sindaco si trovò d'accordo e promise di far costruire le docce nuove negli spogliatoi. Il Don, che ufficialmente non era il mister, si comportava come fanno certi presidenti di calcio. Scelgono i giocatori, suggeriscono loro chi deve giocare, indicano il modulo tattico. Il credo tattico di Don Giancarlo era non si gioca per divertirsi, ma per vincere. Bisogna essere miti e caritatevoli, ma non quando c'è il derby contro il busto Garolfo. Aveva un suo decalogo comportamentale. Chi bestemmiava non veniva convocato per la partita della domenica e chi veniva beccato al cinema a baciarsi con una ragazza saltava almeno due partite. Se baciavi un ragazzo non facevi più il campionato. Come tutti i presidenti, anche il Don aveva i suoi pupilli. Un anno fece giocare un centravanti solo perché sapeva a memoria tutti gli atti degli apostoli. Solo che non segnava nemmeno a porta vuota. Per tre anni di fila la squadra è arrivata in fondo alla classifica perché il Don si era fissato di far giocare Marberti. Marberti da piccolino aveva avuto la pogliomenite e come conseguenza si ritrovava una specie di protesi contenitiva per la gamba fatta di quattro ferri. Marberti come tutti i bambini amava il calcio e fin da piccolo il suo sogno era fare il portiere. Il Don lo fece schierare come titolare nel campionato 1964-65 perché come spiegò negli spogliatoi a calcio devono poter giocare tutti perché bisogna credere nei miracoli e soprattutto perché Marberti da fermo è dotato di un colpo di reni eccezionale. In quella stagione calcistica non avvennero miracoli e a furia di colpi di reni perché gli avversari baligli tiravano tutti all'incrocio dei pali al povero Marberti venne anche il mal di schiena. Il Don aveva quasi sempre la faccia imbronciata e tutti i bambini pensavano che a lui il buon Dio non gli avesse distribuito il sorriso ma quando due volte all'anno Don Giancarlo apriva la porta del teatrino il suo viso si illuminava diventava affabile e smetteva perfino di dare calcio e di insultare Martignoni. Don Giancarlo amava più Pirandello e Goldoni di San Pietro e Paolo ed il suo sogno era creare una compagnia teatrale amatoriale. Ci riuscì ed io debbo la fortuna di aver scoperto il gioco meraviglioso del teatro grazie a lui. Ero uno dei tre bambini che dovevano recitare nella commedia che si sarebbe rappresentata per la fine dell'anno scolastico. Servivano un bimbo piccolissimo, uno grasso e uno smemorato. Divenne anche un trio famoso in paese. Poretti, Gervasoni, Martignoni. Io mi ricordo che nelle prove ridevamo a crepappelle senza riuscire a fermarci, proprio come quando succedeva in chiesa durante la messa. Allora Don Giancarlo doveva darci qualche scappellotto per farci smettere, proprio come faceva in chiesa. Dopo una settimana passata a ridere e a prendere scappellotti, il Don ci portava in teatro e ci faceva salire sul palco dove recitavamo a memoria quello che avevamo letto. A recitare assieme a noi c'erano anche diversi adulti, uomini e donne che ridevano a crepappelle e il Don doveva guardarli negli occhi per farli smettere. Dopo due giorni di prove, la domenica sera si faceva lo spettacolo a cui assisteva tutto il paese con il sindaco e il parroco seduti in prima fila. C'era sempre un bambino o un adulto durante la recita che si fermava in mezzo al palco e diventava tutto rosso. Allora il Don entrava in scena accolto da un applauso, parlava nell'orecchio di quello che non si ricordava la parte e questo ripartiva sollevato e baldanzoso. Come attore nella compagnia filodrammatica dell'oratorio ho preso parte a tre spettacoli. In uno facevo un'estraterrestre cazzo ridi. Forse mi sono rivolto in questo modo maleducato ad un'autorità ecclesiastica, vabbè. Sarò come Marberti, vabbè, spero. Poi un indiano Cheyenne, rida ancora. E infine un cavernicolo. Qui poteva ridere. Quando... Grazie. Siamo alla fine. Quando c'erano gli oratori, i genitori non avevano bisogno di assumere le tate e di iscrivere i figli ai corsi di judo, karate, nuoto, tennis, rugby, equitazione, tiro con l'arco, inglese, pianoforte, taekwondo, eccetera, eccetera, eccetera. Il Don, Don Giancarlo, era la tata di tutti i ragazzi del paese. Tutti lo temevamo, ma tutti si sentivano al sicuro quando c'era lui. Anche quando si andava in pulmana a fare la gitta sulla grigna. Lui correva avanti e indietro lungo il serpentone dei ragazzi per assicurarsi che ci fossero tutti, che nessuno dicesse parolacce. Ogni tanto menava qualche scappellotto, ma così, bonariamente. Come fanno i cani dei greggi che abbaiano, non per spaventare, ma per far sentire le pecore che sono al sicuro, che c'è qualcuno che le protegge. Una volta, quando ebbe spedito a casa tutti i ragazzi tra i 6 e i 15 anni, che avevano urlato, cantato e alcuni vomitato sui tre pullman della gitta al Sacro Monte di Varese, quando tutto era ridiventato silenzioso, l'autista vide che il Don si era addormentato sull'ultima fila. Dormirono tutti e due fino alle 6 del mattino seguente. Poi l'autista accese il pullman, passarono al circolone a bere un caffè corretto e il Don corse in chiesa, perché c'era da celebrare la prima messa della giornata. Viva gli oratori! Grazie! 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 Cazzo come il Don Giancarlo! Sono due cose brevissime. Nel nostro ultimo film che abbiamo fatto, se qualcuno di voi l'ha visto, avrà notato che c'era un omaggio a Don Bosco, perché era il protettore... Non l'ha visto nessuno, eh? Falsi e cortesi, eh? Comunque! Comunque! Adesso, lei non faccia finta. Chi l'ho visto? C'era Don Bosco, avremmo voluto con una forzatura farlo patrono del calcio, no? E infatti abbiamo creato una statuetta dove lui, anziché avere in mano il breviario, che cosa, ha in mano un pallone, no? Ed è un po', è il protettore della squadra di calcio che Aldo allena nel nostro film. E niente, volevo dirvi questa cosa qui, ma tanto a voi il film non l'avete visto, non me ne frega niente. Buonanotte! Adesso vado perché ho messo la macchina in seconda fila e mi è arrivato un WhatsApp che me la stanno portando via col caro Attrezzi. Ciao! Arrivederci! Grazie!